Caffè 24, Radio Genius e Fiasp presentano Podismo Informato. Ciao e buona giornata, benvenuti al nostro appuntamento qui a Caffè TV 24, pronti per questa settimana, fine settimana di Podismo, dalla redazione di Caffè 24, Fiasp Podismo Informato. Oggi è una settimana in cui noi facciamo la pre-vacanza, diciamo, non abbiamo grosse manifestazioni nel domenica e quindi per i podisti domenicali è un po' un dispiacere, ma sicuramente farete qualche corsetta nei dintorni. Il nostro calendario oggi prevede per sabato due appuntamenti, la seconda Sant'Antonio Run, organizzata da Proloco Campo San Piero, i percorsi sono 5 e 18, è un percorso misto pianeggiante, l'orario è un orario inusuale, tra virgolette, perché se non ricordo male e cito il volantino, si parte alle 16, ore 18, scusate, la manifestazione, appunto la manifestazione Fiasp, prevede il contributo di 2 euro, c'è la possibilità del deposito zaino, il consueto ormai siete più che preparati il ristoro finale, quindi avete la possibilità di setarvi al termine, l'organizzazione ha previsto un kit, per chi vuole acquistarlo extra, appunto per poi devolvere il corrispettivo, la differenza appunto, una maglietta oppure una borsa, quindi potete acquistare questa tipologia di prodotti che poi la differenza verrà data in beneficenza. La manifestazione, appunto, come vi dicevo, organizzata dalla Proloquo Campo San Piero è la seconda edizione, ma gli organizzatori mi hanno rassicurato che sono molto abili perché hanno scopiazzato in giro, hanno fatto di tutto appunto per permettere una organizzazione al massimo di questi eventi. Quindi sabato 9 giugno, seconda Sant'Antonio Ran, a Campo San Piero, partenza ore 18. Mentre per quanto riguarda sabato abbiamo un altro appuntamento, questa a Villa Goattera di Rubano, è l'ottava camminata nazionale di retro running e l'undicesimo campionato AICS di retro running campestre. Il coriometrico 1 e 2 su circuito, percorso 250 metri per bambini. Quindi questa è una, tra virgolette, disciplina, comunque un modo di correre diverso. Il, se non sbaglio, anche in questa edizione c'è un'interessante novità che è appunto quella del percorso misto in cui una specie staffetta essendo proprio a circuito è anche molto carina da vedere. Il primo staffettista parte al contrario, il secondo lo vede e nel scambiarsi si girano e quindi chi faceva retro running vede lo staffettista. Il partenza alle ore 16, in cui sta fatta l'ozze catara, ho invertito, e partenza alle ore 16, appunto, i due percorsi, chilometri 1 e 2 del circuito, Villa Goattera di Rubano. Come il consueto, i nostri appuntamenti settimanali con gli allenamenti collettivi, abbiamo, anche l'incito in ordine, a Casalserugo lunedì, la Proloco Casalserugo, camminata con Casalserugo, gruppo Camminare 2012, è un itinerante, e poi a Campo San Piero vado di corsa, associazione Caput Mundi, mentre al martedì abbiamo training runner, partenza training, scusate, dei rain runners, partenza alle ore 8 dal Duomo di Piovo di Sacco. I percorsi in questo caso sono un po' più ampi rispetto ai percorsi invernali e abbiamo i 10 per chi corre e i 6 per i camminatori. Mercoledì c'è Maserà, con Cammini e Corri per Maserà, organizzata da Podisti Maserà. Sempre mercoledì San Giorgio delle Pertiche, con Cammini e Corri per il tuo comune, gli organizzatori è l'Atletica Foredil. Sempre mercoledì Corri e le Muracorri a Montagnana, organizza l'SD Corri e le Muracorri. La Palle Oran, come consueto, è un evento itinerante. Mercoledì è la partenza, questa volta è a Mestrino. Chioggia ha sospeso, come vi accenavo qualche puntata fa, appunto per il periodo estivo, ha sospeso l'attività che riprenderà a settembre. Con gli organizzatori sono i Maratoni Cavalli Marini e la camminata, si chiama Cammini e Corri per Ciasi Marini. Padova ha sospeso appunto la Corri per Padova, che anche questa manifestazione riprenderà sempre con i numeri che ci dà, che sono numeri piuttosto corposi, se non sbaglio a settembre. Mentre a Montegrotto abbiamo il giovedì la Nordic Senza Barriere, gruppo Cammino Camminare 2017. Questi sono poi i nostri impegni per questa fine settimana e per la settimana prossima per gli allenamenti. Sicuramente troverete la possibilità anche su altre province, come Vicenza e Verona, hanno manifestazioni interessanti con cui partecipare e vivere un po' questo mondo fuori da Padova, dalla provincia di Padova. Noi abbiamo come federazione un appuntamento importante che è il Consiglio nazionale, quindi lunedì sabato e tutti i vari delegati di FIASP nazionale si trovano a Mantua per un po' discutere del vostro interesse, del vostro sport e quindi magari di vedere qualche novità anche in vista dei prossimi eventi e comunque delle manifestazioni che sono sempre più numerose dove c'è sempre più bisogno di disponibilità di persone per organizzare e soprattutto dove la burocrazia sta aumentando il carico e la mola di lavoro. Quindi sabato vedremo come si svolgerà, quali sono le nuove novità e magari di riproporvi a voi nelle prossime puntate. Questo è tutto il nostro palinsesto per questa settimana e vi auguro buona corsa, buona domenica e alla prossima. Ciao! Caffè24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato.